Allora, 1, 2, 3 Siamo arrivati a Malta Siamo arrivati Siamo arrivati a Malta Questa è la mia seconda avventura E non so bene cosa raccontarvi È tutto diverso, ma in realtà è tutto uguale Qui, come al solito, c'è la mia valigia E... che dire? Malta! Come l'altra volta sono un po' raffreddato Io penso che sia venuto al fatto che... No! La giotacchina è caduta Io penso sia dovuto al fatto che... Comunque sia da dove vengo io mi ammalo Perché ormai... Ormai quel posto mi fa ammalare È un po' come una zona tumorale, Rosignano Soldeo No? Voi che ci abitate ancora, come è l'aria? Pulita, vero? Sono arrivato a Malta Il mio primo giorno... A Malta Sono partito stamattina Ho preso l'aereo da Pisa Dall'aeroporto di Pisa Bellissimo Una meraviglia quella città Veramente a me Pisa mi piace tantissimo Soprattutto quando se ne vai E prima di partire mi sono preso un 5.5 da Gagarin So se lo sapete perché si chiama Gagarin Perché quando lo mangi voli sulla luna Diciamo... Sua letto Per forza La gente mi guarda male Perché sono un mostro Io sono convinto che se faccio qua il video Mi bagnerò i piedi prima o poi Ma questo è un problema del Renzo del futuro Nooo Allora Bam, 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 bam e bam Sono vestito da parroco Come vedete C'ho anche il crocifisso Che ho preso in prestito Che ho sgraffignato Che ho attaccheggiato Ho preso in prestito Così ho il potere di Dio Ho il potere di Gesù Cristo Che mi porto dietro È una cosa positiva, non credete? È questo talismano di potere Grazie Yahweh Che mi guidi e mi conduci A Malta Per forza Che dire Ogni giorno ho incubi diversi Sono sempre più solo Io sono libero Sono libero di fare tutte le scelte che voglio Perché non ho nessuno da cui dipendere Nessuno dipende da me Mi rimane semplicemente mia mamma Ciao mamma E la mia gatta Che poverina Non vedo più Mi manca tanto la mia gattona La mia ciucciola La mia piccolina Detta anche la mia bimba Poverina Non c'è più manco quella Questa libertà è deterrente di tanto dolore Perché non so più cosa farmene Di tutta questa libertà Perché alla fine Se poi sei da solo E nessuno ti ama È un po' triste la cosa, no? Io ho 24 anni e sono a Malta E non è male la cosa Perché conosco un sacco di persone della mia età Che vivono nello stesso posto in cui sono nate Ma sono felici Sono tranquille Io le invidio Perché loro si sono accontentate di quella realtà lì Di quella soglia Che ci sta Nel senso io non sono nessuno per giudicarli E io non sono migliore di loro Solo perché mi sono spostato Però riconosco che è importante cambiare realtà È importante cambiare città È importante andare fuori dai propri confini Dalla propria zona comfort Per provare a se stessi Che sia in grado di fare anche altro E... Nulla A Malta Siamo arrivati qua a Malta Il viaggio è formato da quattro membri Io faccio parte del dream Renzo Matteo Sofia Lillo Tutti uniti questi quattro membri formano il dream team L'arrivo della squadra Giniu Mettiamola così Siamo tutti e quattro ludovatici Anche se non lo sappiamo Il dream team è formato da Renzo Di Spalle Il secondo membro del dream team è Matteo Cipolletta Matteo viene da Napoli E ho già detto tutto È la seconda persona nell'ultimo anno Che ha un serpente tatuato addosso Io voglio particolarmente bene a Matteo È la mia stellina Matteo Matteo come grande qualità Ha il fatto che sa fare un sacco di ricette con la carne Sfortunatamente qui a Malta Quando è andato in una macelleria E ha chiesto la cotenna Non l'hanno saputo aiutare Anzi l'hanno guardato male E lui se l'è presa particolarmente con i Maltesi Perché a noi? Perché dobbiamo essere sempre noi gli stronzi? Non ho capito qual è la situazione Teo è accompagnato da Sofia Panzarella La signorina Panzanella Che non ho ancora capito se è Panzarella o Panzanella In tutti questi mesi Sofia è il terzo membro del dream team È l'unica ragazza del nostro dream È molto carina È molto simpatica Si addormenta sempre in momenti poco opportuni della giornata Non mette in pausa i film quando li guarda Per quanto mi riguarda è qualcosa di spregevole Però profuma e apprezza le mie battute Quindi è un membro onorevole del dream E poi abbiamo il membro più pesante del dream team Calogero detto anche Lillo Di cognome Montana Calogero Montana Per gli amici più intimi Lillo è Lillo Non ci sono molte spiegazioni Non ci sono definizioni per Lillo Lillo è la nostra stella No Lillo è la nostra ancora Lillo è il dream in se stesso Cioè se il dream team si potesse riassumere in una parola Sarebbe Lills E questo è il nostro primo viaggio come gruppo Io ho avuto tre gruppi storici nella mia vita Ho avuto il gruppo di Vada Ho avuto lo sborro gruppo E il dream team invece è calvanizzante a suo modo È spenserato È allegro E mi sta in qualche modo Facendo passare la depressione Che non è facile E fatico ancora piano piano A lasciare andare Però ci stiamo lavorando Vivendo il presente Allenandosi Maturando il dolore Perché secondo me la cosa più importante È maturare quello che si è imparato Solo tu puoi salvarti Soltanto tu puoi venirti incontro Quindi amati Cerca di volerti bene Mantieni un obiettivo Focus Disciplina Cerca di essere sincero con te stesso Hai dei limiti Rispettali Non riesci Domani Domani forse ce la farai Questo soltanto per dire che Il dream team mi sta aiutando molto In questa battaglia personale Che si chiama vita Sono di nuovo qui Ad annoiarvi con le mie storie Io sono in un posto Non so bene di preciso dove mi trovo E sono in mezzo all'acqua Come potete ben vedere E posso soltanto dire Che una margherita sotto i 12 euro Non la troverete No mi si stanno staccando le scarpe Porco Spero che l'acqua non mi bagni Perché potrebbe essere un problema E la cosa più positiva di quest'isola È la trasparenza dell'acqua È veramente bello il mare È veramente bella l'acqua E ti ci verrebbe da tuffartici Per il resto fa tutto abbastanza schifo Cosa più importante I mezzi pubblici I mezzi di trasporto Sono autorizzati E vengono messi in atto Dall'azienda Talnija Servirebbe un video a parte Per spiegare quanto il Talnija Sia il male dell'inferno Se Caronte fosse Fisicamente presente nel nostro mondo Fino all'anno scorso Pensavo fosse l'Atac di Roma Quest'anno è il Talnija di Malta E... Sì Sì Letteralmente sul loro sito ufficiale c'è scritto Se il pullman è pieno Dovrei aspettare due tre corse Non mi puoi scrivere sul sito ufficiale Che dovrei aspettare due tre corse No Non penso sia fattibile questa cosa Io direi che la cosa più importante da dire oggi è We support Drogue Penso sia la cosa più importante di tutte Mi butto? No? Che dite? Che dici? Andiamo? Questa nuova avventura? Eh? Eh? Divertente sarebbe Poi chi manda avanti il canale? Allora Uno, due, tre Mi si vede? Allora Sto lavorando come uno schiavo E questo mi fa venire in mente un parallelismo interessante Cioè che noi alla fine siamo tutti schiavi del tempo Perché il tempo se ne va E l'unico momento importante della nostra vita è questo istante Questo presente E io sto morendo dentro Perché qui a Malta non fanno niente Non c'è nulla Ci stanno i campi Ma non Non ci stanno le verdure Non c'è la frutta Costa tutto un sacco di soldi Quindi alla fine noi ci si sveglia Si prende il pullman Si perde un'ora della nostra vita per arrivare al lavoro Si passano otto ore della nostra vita al lavoro E poi si esce dal lavoro per tornare a casa E si perde un'altra ora Quindi abbiamo buttato nel cesso dieci ore della nostra vita Contando che di media una persona dorme otto ore Ci rimangono quattro ore libere In queste quattro ore libere di solito uno va a fare la spesa Si cucina Guarda un film di merda E poi muore nel letto Ci si prova ad andare avanti tutti i giorni A resistere a questo limbo chiamato vita A essere schiavizzati per lavorare Alla fine noi vendiamo il nostro tempo Sperando di riacquistarlo in futuro con del denaro La maggior parte del tuo tempo la passi su un mezzo pubblico Per andare a casa a dormire E poi trasportarti di nuovo al lavoro Dove sei obbligato ad andare Perché devi guadagnare dei soldi Perché vuoi mangiare E vuoi comprarti la droga Bella domanda signori Il sole è calato E siamo rimasti da soli E come dico sempre io Ah bene Allora non so quanto si veda Perché è in controluce magari E niente Siamo venuti in questo posto abbandonato Perché è come me Non sono abituato a fare queste cose Come un vero vloggers È veramente suggestivo Perché hai paura Hai fatto solamente paura Che arrivi qualcuno all'improvviso E ti smudelli tantissimo Penso sia un albergo abbandonato O penso che fosse una struttura Residenziale Abbandonata E è molto infatiscente tutto questo È molto bello Perché ci sono solo io Me stesso E i bangladini Che spacciano Ruggine Siamo a Malta Ora Non è la parte più bella di Malta Queste sono le zone Che piacciono a me Dove posso espiare le mie colpe Parlare da solo E affrontare la mia solitudine Dilagante Che paura Pensavo fosse un pluriomicida Pedofilo assassino Che volesse venire ad accoltellarmi Che paura Sto toccando un muro Che ha svariati migliaia di anni Questa cosa mi dà Un sentimento positivo In qualche modo Io vivevo qui Con queste finestre Grigie Senza un minimo di verde E solamente di tanto in tanto Degli sprazzi di scie chimiche Che ti passavano sopra la testa Un tugurio Mi vorrebbe da definirlo in questo modo Fa abbastanza schifo la vista È veramente deprimente Con quella meravigliosa bacinella Piena di batteri È lì che è nato il covid È nato lì Questo è quanto Non mi vedi? L'eleganza e lo stile È da sette giorni che non fumo Ma devo dire che i cannoni per strada Non sono mancati E poi mi alleno Faccio una serie di esercizi specifici Per lavorare il petto L'addome E le gambe E ogni volta che mi piego per terra Penso a quanto ti odio E penso a quanto mi hai fatto male E quindi mi carica Mi dà il giusto spirito Dovevo essermi allenato Mangio il mio tostino al formaggio Che quello è la base Della vita Ho iniziato a giocare a Baldur's Gate 3 E la mia vita è esplosa Letteralmente Non vi racconto cazzate Nel dirvi che Penso che dopo The Witcher 3 È stato È uno dei giochi più Mastodontici Che è uscito Nell'ultimo ventennio È un gioco incredibile Io Mi è capitato più volte Di fare delle campagne di D&D Saluto il mio Dungeon Master Sei sempre nel mio cuore Fratello mio Ora basta Vi ho annoiato anche fin troppo Spero solo che si senta Ciao Un bacio Spero solo che si senta